Imparare subito un mestiere per lanciarsi nel mondo del lavoro in un tempo di crisi. L'officina dei sapori Cescot scalda i motori. Nel mese di febbraio torneranno i corsi di pizzaiolo, panificatori, macellai, pasticceri e barman. I corsi proposti intendono offrire, con riferimento alle principali filiere agroalimentari, pane, pizza, dolci, carne, vino, olio. Un panorama il più possibile dettagliato su aspetti inerenti, processi di trasformazione della materia prima, le proprietà nutrizionali, le classificazioni merceologiche e l'utilizzo degli alimenti in cucina e abbinamenti. E sarò già dimostrato, secondo i dati diffusi dal direttore Angelo Pellegrino, lo scorso settembre a chiusura della Summer School che l'80% dei corsisti trova lavoro, anche se la maggior parte è fuori dal territorio. Da qui l'appello a Corato, che partì proprio da Pellegrino alle istituzioni perché si attivino per ridestare la possibilità di fare impresa. Anche quest'anno lo sforzo didattico dell'Officina dei Sapori sarà rivolto all'alimentazione delle persone in quanto questa riveste un ruolo importante nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano, nonché un fondamentale veicolo di promozione turistica e culturale dell'Italia all'estero e di commercializzazione dei prodotti. L'Officina dei Sapori, per la sua stessa vocazione, intende anche promuovere, attraverso la didattica teorico-pratica, le possibili sinergie tra produzioni agroalimentari tipiche e locali, valori di territorio e turismo. Da una conoscenza di base dei meccanismi di gestione che regolano il settore turistico si passa allo sviluppo di un'indispensabile visione interdisciplinare utile per interpretare il fenomeno del turismo enogastronomico nelle sue diverse componenti identitarie e geografico-culturali, progettuali e gestionari di prodotto, segmentazione e target nell'ottica della qualità, sostenibilità e personalizzazione delle esperienze degustative di visita. In particolare si mira a dare una formazione teorico-pratica per l'accoglienza e l'ospitalità nelle aziende che intendono avvicinarsi al turismo, nonché per l'organizzazione e gestione di eventi, anche a livello territoriale, legati all'enogastronomia.